Il meteo è offerto da La tua agenzia di viaggi Il Tuareg Tour Operator Tutto un altro mondo da godere Benvenuti al meteo di Filorus TV Vediamo le previsioni di Mercoledì 9 settembre Un campo di alte pressioni Abbraccio la regione garantendo tempo stabile Assolato ovunque Nello specifico sul litorale tirrenico Meridionale e zone interne Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi Per l'intera giornata Sul litorale ionico Giornate in prevalenza poco nuvolosa Salvo la presenza di nubi sparsi al mattino Sull'Appennino Cieli in prevalenza sereni O poco nuvolosi per l'intera giornata Salvo la presenza di qualche addensamento serale Venti deboli in rotazione ai quadranti nord-orientali Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso Vediamo le temperature Palermo 23-28 Trapani 22-26 Agrigento 23-27 Enna 21-26 Caltanissetta 22-28 Ragusa 21-26 Siracusa 22-27 Catania 22-28 Messina 22-27 Grazie e appuntamento al meteo di domani Completo 7-28 Grazie a tutti E Grazie a tutti con il nowo Questo è un料ario do